Amici biker, ci troviamo da Gallomoto, siamo a Cerveteri per incontrare il pluricampione del mondo marathon, Leonardo Paez. Leonardo Paez, vogliamo parlare del mondiale di Glasgow, un mondiale per te molto buono, perché comunque arrivi, chiudi il tuo mondiale in quinta posizione, però con un pizzico di sfortuna, perché le cose potevano per te andare sicuramente molto meglio. Sì, devo dire che è stato un mondiale un po' sfortunato, abbiamo fatto una bella preparazione quest'anno, ci teniamo a fare bene insieme a nostro team, anche a Roberto Gallo, a tutte le staff, sono gare di un giorno, una gara non adatta alle nostre caratteristiche, ma penso che abbiamo fatto del nostro meglio. Sono stato convolto in una caduta di tre o quattro atleti, io sono stato un po' in mezzo, ho avuto il problema che sono cascato e ho rotto il boa, se può dire. Da lì in poi è stata una gara un po' più difficile, già era una gara dura, tirata, ma devo dire che sono soddisfatto, sono riuscito a fare quinto, sì, nonostante tutto questo infortunio. Ti vuoi parlare un po' del percorso, questo percorso di Glasgow, un percorso molto molto particolare? Sì, un percorso duro, pioveva anche per provarlo, sono stati giorni veramente difficili, pioggia, fango, anche in gara, siamo partiti, era un po' freddo, per fortuna la giornata è stata bella, non ha piovuto, ma il percorso era molto scivolozzo, soprattutto tutta la prima parte, bisogna stare sempre davanti, poi strada larga, poi sentiero stretto, allora un po' si formava del buco, sì, tappalamenti, poi un po' buco per chiudere, sì, se non ha questo problema poi è difficile chiudere, perché quello che prende per prima la discesa ormai è un po' avventagliato, discese tecniche, radici, curve, vai par, devo dire che è stato un mondiale, sì, duro anche, chiede vela, sì, non pensavo a un percorso così, lì in Escosia hanno fatto un bel percorso, velo duro. Leonardo, torni appunto ora dall'allenamento qui sul litorale laziale, ora inizia da settembre ormai l'ultima parte di stagione, cosa ti aspetti? Sì, ormai sì, ho fatto una settimana dopo il mondiale di riposo, poco allenamento, mi sono goduto un po' il mare, adesso sì, bisogna cominciare a spingere di nuovo, la stagione ancora non è terminata, ci sono gari importanti come la, sì, c'è la Coppa del Mundo, soprattutto in Francia, magari facciamo prima la Cronplus e poi, sì, appuntamento importante la Coppa del Mundo in Francia. Grazie. 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 quando volete porto a 2 siamo quando vuoi